Ciao a tutti ragazzi e bentornati miniera Sì Sì Ho paura e ho fame e voglio tornare a casa Però abbiamo insistito per il fatto di fermarci qua Di non andare direttamente a casa Però prima di tutto questo la fan art Che ci propone Clarkus In verità propone me nel disegno Perché ci sono io Però veramente guarda che ha fatto benissimo Mi piace tantissimo Mi ricordo un cartone ma non me lo ricordo Ma che triste Un cartone che non mi ricordo Ragazzi se vi ricorda anche voi un cartone Ditecelo qua Però veramente figa grazie Clarkus Per il tuo disegno Ora ciao Lari Ciao io sto un attimo coprendo qui Perché c'è dell'oro là Allora continuiamo Sì Continuiamo con la nostra ricerca Senti andiamo verso casa Però vorrei anche dell'oro La febbre dell'oro Infatti 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 Ma d'ora quanto ce n'è? Ah caspita non ce le to Ah no posso farmele Io ho preso un po' di ossa Uno in verità Ok Un osso Sicuramente in questa puntata ragazzi Con quel che abbiamo Ci faremo le prime armature in diamante Eh? Vabbè ci abbiamo qualche diamantuccio Ma guarda di nuovo stessa cosa Il minerale è attaccato all'altro Ragazzi sta minerale l'amo È bellissimo Mi si è andato il piccone Mi si è andato Vabbè abbiamo dodici di diamante Senti Non usiamola ancora per le armature Oh redstone prendi Che non ci serve Però la prendiamo Altro oro lì Dove? Vieni vieni devi prendere l'oro Op 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 Eh grazie Prego No Ho messo la torcia Non volevo Ok Sto controllando tipo Sulle pareti Ah ecco Magari si vedono dei diamanti Sì 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 Vabbè o no Non penso che trovi i diamanti Però È il primo creeper Non sbaglio No 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 Vlad non c'è una spada Porca miseria Esplode Sì Ne fatti Mannaggia Possiamo tornare indietro Certo Che qua esploreremo in prossime puntate ragazzi Ma ce n'è veramente tantissima Ah Ah No raga No 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 Vlad muoio Muoio Ti ho perso La prima morte La prima morte Toglietevi Oh mio dio Oh mio dio Oh caspita Abbiamo rischiato la prima morte Ah ci stanno ammazzando Ma dove quanto è grande quella miniera Vabbè andiamo Andiamo via Per favore Caspita Per favore Dio mi sono preso malissimo C'è un cuore Eh brava Mangia la carne cruda Almeno quella Ok ok ci sono Ci sono Andiamo a casa Che è meglio Eh Dov'è casa Eh non me lo ricordo Ah no era qua Altro oro Ma perché l'oro Tipo è solo sulle pareti Non lo so è stranissima sta miniera Raga No sul serio mi sono perso No Siamo venuti da qua Ok Sì Però poi da dove Scusa perché ci sono delle assi sopra Assi dove Oddio è vero Si sale Mi sa che a casa Mi sa che Ci torni solo te Oh cosa abbiamo trovato Ma guarda un po' Aspetta Tadà Sto scendo dal terreno Tac tac Sì Mi serve però un piccone Eh non ne ho Facciamo un manco da lavoro Oddio Sì probabilmente L'avrete notato subito Sì stiamo giocando con delle coperte Sì è vero Coperte con le maniche La mia si illumina Noi abbiamo fatto finta di niente Sì però la sua si illumina al buio Fantastico È gigante La raga ma così a casaccio Bellissimo Io prendo Eh vabbè ma mi ha sparato da dentro le mura Sto morendo Sto per morire Sto per morire Sto per morire Corri No 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 zio da me Oddio no 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 Oh mio dio Ma io ho un cuore a mezzo Eh anch'io Ce ne possiamo andare Invece di continuare a forare Sì sì no scusate raga Non possiamo Non possiamo andarci No 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 Mi ha preso subito Anche perché non ho armature Ed ecco perché sto morendo così in fretta L'aria a casa Per favore D'oro c'è Il bello è che non mi ricordo dove è casa Neanch'io Come sono scesi qua Che qua l'abbiamo interrotta noi L'abbiamo messo la roccia Senti facciamo così Eh Andiamo verso l'alto Sì in effetti No In altro modo Vabbè ci beccheremo un fiume di lava addosso No E nel caso muoio io Ah però ecco Facciamo un punto qua Così nel caso Nelle prossime puntate Sì facciamo un putem Torniamo Ecco in notte Eh notte Attenzione No Io dunque Un cuore e mezzo Eh io anch'io Oh la casa Ma va Sì Oh allora Oh perfetto Allora sappiamo dov'è Esatto Abbiamo la miniera ragazzi Sotto casa No 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 mi sono incastrato Ma si può Si può Via Casa Casa Ok A posto A posto raga Ok Adesso Cibo Cibo Prima di tutto droppo tutta questa bellissima roma d'oro. Guarda che bello! Mi sa che... Dobbiamo ricavarci un attimo di orco. Mi sa che ci tocca espanderci. Mi sa proprio di sì, però. Di casa, perché qua è proprio pezzente. Pezzente? Pezzente, pezzente, ma proprio forte. Ok, non so mi ha bruciato qui, ha un altro lì più avanti. Ok, dovremmo essere liberi in questo caso. Sì. Tra l'altro, guarda anch'io. Madonna, abbiamo un po' di grana. Adesso stai iniziando a... Perfetto, fai un attimo di pane. Sei dei semi? No, grano. Dammi anche un po' di grano, va? Grazie! Prego! Ok, vado ad accoppiare un po' di gente. Hello! Ciao! Ah, così io faccio solo due pagnotte e tu sprechi tutto il resto per accoppiare un po' di gente. Sì. Vediamo prima la priorità agli animali e poi a noi, giustamente. Ci servono gli animali, ci serve la carne. Ora, vediamo se... Sì, è una pagnotta. Grazie. C'è un creeper lì. Uh! Hai visto? Sì. Eh! Ah, ce l'ho anch'io. Aspetta, c'è un creeper lì, comunque. Dove? Eh, là, nelle valli. Nelle valli. Ci sto pollo, però, metto il... No! Eh, anch'io, anch'io. Vabbè, 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 fa lo stesso. È di nuovo! Eh, vabbè. Questi vogliono. Già lo sto pane. Me ne serve ancora. Ancora tantissimo. Eh, mi dispiace. Anche a me servirebbe, ma... Ma hai messo a cuocere qualcosa? No. Ah. Aspetta, sacrifico questa mucca in nome agli dei. Tre! Perfetto. Cuocio questa roba e ci sono. I cactus sono cresciuti. Sì, perfetto. Lari, mi sa che ci tocca come prossimo obiettivo espanderci, per forza, perché... Aspetta, aspetta, che chiamo i pollini dentro. Venite. Il telefono. Polly. Ah, non capivo. Ho detto, caspita, magari ci sta chiamando qualcuno e non lo sto sentendo. I polli ti stanno chiamando, sì. Madonna. Mi aiuti, vieni, puoi spingere un secondo. Oh, sì. La sto cucinando. 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 Comunque, per la parte finale di questa avventura di oggi, in cui semplicemente siamo scappati da una miniera... Abbiamo rischiato, eh. Abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato la prima morte, raga. Entrambi, eh. Pensavo, appunto... Una pecora di un colore particolare. Grigio oscuro. Ci sta. Pensavo, appunto, per le prossime puntate magari iniziamo a espandere e costruire la nostra... Ci serve per forza, ragazzi, il magazzino. Esatto. Fateci sapere, però, lo stile in cui lo vorrei. Esatto, esatto. Perché la scelta o è di fare subito la casa nostra, però direi di no, non ci sbatti adesso. Io utilizzerai, appunto, i materiali che altro per espandirci. Prima ci facciamo un magazzino. Il magazzino lo riempiamo di tutta la roba che possiamo e poi con quei materiali ci costruiamo la casetta. Sì. Fateci sapere se nella prossima puntata volete che andiamo in quella miniera che abbiamo scoperto, oppure ci allarghiamo. Oppure facciamo il deposito, esatto, per prima. Ma in ogni caso, o uno o l'altra, poi la puntata dopo quella prossima faremo... Sì, faremo l'altra roba. Esatto, insomma, non si è capito, ma spero che si sia capito. Ok, quindi ricapitolando questa puntata abbiamo trovato oro, ragazzi, che ci serve. Abbiamo trovato la miniera. Ma effettivamente, aspetta, prima di concludere... Facciamo le prime cose in diamante. Ah, sì. No. E vabbè, hai perso i livelli. Non ci credo! Eccolo qua! E vabbè, ma... Oh mio Dio, no, mi ha spawnato da tutt'altra parte, Vlad! Eeeh... Ah, e sei sull'isola iniziale! Sì, sull'isola iniziale! No, allora devi dirmi le cor... No, raga, non doveva finire così, sta puntata! Non ci posso credere, serio! Ma ti giuro, stavo scendendo con tutta la calma del mondo! Ma scusa, non avevi un cuore cili? Cioè, ti avevo dato da mangiare. Esatto! Vabbè, non è che sia una gran perdita, hai perso dieci livelli, quindi ci sta. Sì, però vuoi prendere la roba? Sei andato a prenderla? No, ce l'ho qua davanti. Beh, si prende l'XP. No, aspettate, raga, devo tornare. Scusate che è successo sto casino, però... La prima morte... Vabbè, la prima morte è già la quinta puntata. Vabbè, dai, non conta, è una morte stupida, eh. Esatto. Non è una morte importante. No, ma io non ho più spazio, Larry. No, ho più spazio. E vabbè. Ok, ok, c'ho la barca. Dimmi le coordinate. Meno 360. Poi vabbè, il numero e mezzo non conta è 1070. Meno 360? Meno 360 è l'ultimo numero 1000. Ok, stai facendo le prime cose in diamante? No, sto raccogliendo ancora la tua roba perché sono pieno. Ma metti al sicuro tutto, ok, perché poi almeno quando vengo mi riprendo la roba. Scusate, veramente chiedo scusa, Larry. Non so quale sia la tua roba, io l'ho messa tutta nella cesta. Ma che aspetta, ci siamo andati così lontani? Ma io mi sa che sono. Eh, sì. Meno 360 sono andata. Meno 360 però devi andare a 1000. Ma stai andando in negativo, Larry, devi andare da tutt'altra parte. Non è meno 1000, più 1000. Appagio ancora. Eh, ti dovrei fare a piedi il resto perché con la barchetta... Eh, esatto. Dopo quell'isola arrivavamo alla terraferma e poi da lì... Ma lì più o meno mi ricordo come siamo andati. Abbiamo attraversato il deserto e semplicemente c'è stato questo fiume. Allora, ehm... Ok. Non ho spazio, già è incredibile. Cosa devo fare di diamante? Un piccone per te? Sì. Un piccone per me? Sì, 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 sì. Ma la spada per ora, raga, non la farei. No, no. Facciamo il resto in ferro. Mi sa che qua ci siamo sganciati, no? Sì. Sono tipo in una zona di deserto. Oh, eccoti là, ok, perfetto. Non ti vedo. Aspetta, io mozzo i conigli, raga. No, lascio i conigli, pace. Ma vorrei mangiare. C'è cibo a casa. Non è vero. Ah, eccola. Eeeh. Sparata vista. Sì. Ce l'ho fatta. Ci ho voluto il seco, tipo, però. Ce l'abbiamo fatta. Va bene, ragazzi. Allora io direi di concludere con la puntata. È stata una puntata più strana. Intenta non affogare adesso. Manca così poco. Muore anche qua di nuovo. Non doveva succedere niente. Ora te la menerò per tutta la vanilla con sta cosa. Probabilmente, grazie. Comunque, ragazzi, vi ricordo di trovare tanti like. Iscrivetevi sull'oggi fatto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.